Grazie, buonasera. Io ringrazio moltissimo il signor Amarnath perché per me è un grandissimo onore essere in India, un paese che amo, ma aver avuto la possibilità di avere un partner particolarmente importante in India per noi è stato determinante. La caratteristica della produzione italiana di mobili ormai da 50 anni è la leader mondiale nel design, cioè nella creatività. Agli inizi era un problema di design estetico, emozionale, cioè l'immagine di un prodotto. L'evoluzione del modo di vivere delle persone porta ad essere il design un prodotto che deve far meglio vivere le persone. Oltre che servire un letto per dormire o un divano per sedersi, deve migliorare la qualità della vita. Mr. Messina dice che la caratteristica dell'italiano di design, parlando di furniture, è che l'Italia è stato il leader in design, in creatività. Ma c'è stata un'evoluzione nel ultimo periodo, perché non è solo l'estetica, non è solo il design che è importante, è che abbiamo chiesto un prodotto che ci permette di vivere meglio. Quando siamo partiti a progettare i primi modelli della Flu, abbiamo pensato non a un problema di estetica, ma a un problema di forma, quando ha la necessità di fare dormire bene le persone. Per cui siamo partiti prima che del letto dal materasso, che è l'elemento più importante, perché come può essere il sedile in una macchina. Cioè un terzo della nostra vita viene passato nel dormire, e per dormire principalmente l'elemento importante è il materasso. Ecco perché noi abbiamo fatto 11 modelli di materasso, che hanno varie prestazioni a secondo se uno vuole dormire, rigido, morbido, semirigido, c'è qualsiasi tipo di esigenza nel modo di dormire. Quando abbiamo iniziato, Flu ha iniziato a fare i primi progetti per i modus. Prima di iniziare a pensare di dormire, la prima cosa era di fare il miglior modo per dormire bene. Per dormire bene, la prima cosa è la macchina. È come in un'auto, una cosa molto importante è il motore, ma molto importante è la cosa dove si senti, per il comfort. E come abbiamo spento un terzo della nostra vita in dormire, è essenziale che la macchina sia molto buona. Quindi ora stiamo producendo 14 tipi di materasso, rigido, meno rigido, più comforzante, con la spraggio, con la memoforma, con la lacce. 14 tipi di materasso, producati nella nostra fabbrica in Flu.